Musica Benvenuti in leggenda Spag, qui è Francesco Almasio e oggi voglio proporvi una cosa nuova ovvero un Google Myself, quindi cercare te stesso sia come Francesco Almasio che come leggendo 88 su Google per vedere che risultati otterremo e vedremo anche che immagini avremo andiamo subito a cercare il primo account ovvero Francesco Almasio che è collegato con Google Plus e lo andiamo a cercare. Come vedete come primo risultato ci dà il mio account YouTube alcune immagini relative a me, Twitter, l'AboutMe che è il mio portfolio dove potermi trovare avere un riepilogo di cosa faccio e i principali link dei social che frequento abbiamo Twitter, lo utilizzo molto e sono anche molto seguito quindi seguitemi anche su Twitter come vedete abbiamo 932 follower, ne seguo 1036 e per coloro che mi seguono lasciate un sacco di mi piace perché merita poi abbiamo ovviamente il profilo LinkedIn e Facebook ovviamente però tendo a non aggiungere le persone quindi se vorrete aggiungermi mi troverete qua il progetto Melting Pot che è un progetto di traduzione di articoli con cui ho partecipato recentemente quindi troverete alcuni articoli che ho tradotto il mio account Google Plus e poi una sezione di musica che però fa riferimento a un autore del 1800 tipo e poi infatti se andiamo a cercare come vedete vi apparirà il musicista logionista del 1895 quindi uno che aveva il mio stesso nome e il cognome di quell'epoca che era un musicista, un pianista poi abbiamo il profilo ZU che praticamente ho abbandonato infatti con l'avvento di Telegram non mi serve più avere questo account infatti prima o poi lo manche molto di più poi ancora fermo e poi possiamo andare avanti con l'account Spotify sempre le 188 le foto di Instagram ovviamente seguitemi anche qua come vedete abbiamo le ultime foto con anche uno dei miei ultimi acquisti il libro di Valentino Rossi grandissimo perché sono stato la presentazione del gioco ufficiale della MotoGP il computagonista Valentino Rossi quindi tanta roba poi abbiamo le foto di Flickr che anche qua non lo utilizzo più ma sono rimaste infatti non ho ancora reso pubblica alcuna foto e poi come vedete biografia del Dictionary of the Organ riferito a quell'autore che vi ho detto prima è stato il Conservatorio di Milano 1806-1871 poi qua c'è un link up telefonico ma non sono io perché qua parla di Olgiatolona e molto altro insomma c'è veramente di tutto mentre se andiamo a cercare ah vediamo le immagini ovviamente prima di cambiare abbiamo principalmente le foto del profilo le foto delle copertine e poi abbiamo anche la foto con Anna Cobone infatti qua evidentemente era qualche scambio di tweet che ci eravamo fatti e appare la sua foto e basta non c'è altro infatti dopo sono foto generali quindi non c'entra veramente nulla e invece andiamo a cercare su tutti leggendo 88 come vedrete comparirà l'account twitter l'account youtube un video di Stefani poi twitch quindi mio account twitch un account instagram ancora e poi parlano di cose riferite ad ebay che non utilizzo foto di instagram quindi anche qua vengono raggruppate tutte le mie foto e poi potete vedere anche i vecchi tweet su tweet tunnel e poi vabbè social blade vi mostrerà le caratteristiche più o meno stimate del mio canale e vi mostra soprattutto le visualizzazioni video giornaliere quindi molto utile e utile anche per avere una percentuale di visualizzazione mensile nel caso dovete fare una partner o un network è utilissimo avere una stima poi vediamo un po' se c'era qualcun altro aspettate no qua no e poi c'è questo in pratica vi fa un riepilogo delle attività della popolarità delle risposte alla chat mie in generale quindi abbiamo anche le conversazioni principali avute le analisi che riepilogo un po' come prima quindi 47 tweet al giorno tipo 2 retweet ogni 100 tweet che ho ricevuto e 14 risposte su 100 tweet poi network quindi vi mostra un po' le persone che mi seguono di celebrità e tutto insomma c'è veramente di tutto e poi l'aspetto demografico quindi sapere il percentuale di persone che ti seguono in percentuale quant'è l'influenza l'età da dove ti seguono e il tipo di audience interessato quindi ci sono blogger e social media gli altri non si sanno e basta torniamo un attimo qua vediamo un po' se c'è altro ecco forse era un video che avevo fatto una foto che avevo fatto sì che evidentemente mi ha preso con qualche hashtag e compare questa foto qua ci sono altre foto fatte e poi andiamo un po' ah poi va bene la mia pagina di facebook un altro sito andiamo un po' non va più cosa sta facendo ah qua prende leggenda però ha riferito ad un'altra un altro sito che si chiama tua madre leggenda che abbiamo fatto anche il diario alcune risposte che avevo dato su twitter evidentemente gare malate legato sempre a instagram quando ho preso un mio video per vedere il mio video in 1080p addirittura ah perché incredibile addirittura spettacolo e ah qua sempre riferito a instagram quindi con webstagram il tag delle gare malate tutto viene diviso tramite questo e basta penso di essere stato abbastanza chiaro cioè spero che questo video vi sia piaciuto e andiamo a vedere un attimo le immagini sempre con leggendo 38 qua sono molto meno infatti abbiamo questa questa qua quando ho fatto un video con xaven qua avevo risposto a destra avevo lasciato i link delle attività e poi 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 a destra che avevo lasciato un mi piace ad un mio mi piace su un suo video e foto e foto di instagram praticamente qualche copertina che avevo fatto ancora andacovone qualche mio commento evidentemente compare sempre qua anche nelle risposte dei miei amici e basta questa questo tipo di cosa di cercarvi ve la consiglio di fare perché è utilissimo per sapere quanto siete visibili online spero questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi se non l'avete ancora fatto troverete tutti i link in descrizione vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao